Vogliamo essere positivi. E noi abbiamo qui ospite a Made in Italy un filosofo, il filosofo della total positivity. Signore e signori, Max Sabanitani! Grande! Positività! Ciao Max! Ci divertiamo! Positività! Gigi e Ross un duo comico e Max due comici in uno! Fantastico! Quanta positività! Quanta! Sì eh! Beh io sono qui per parlarvi di una filosofia di vita che si basa su un pilastro della cultura occidentale. Cogito ergo sum di Cartesio! T'appartengo io ci tengo di Ambrangio Lini! Scusa Max ma non era proprio questa. Per me è un fritto misto, grazie, gentilissimo. Avete presente la body positivity? Sì. Ecco, la mia filosofia è la total positivity. Total, proprio total! Sì, io vorrei una carbonara abbondante. Perché mi chiede... E grazie alla total positivity io ho scoperto la mia passione per la comicità. Sì, perché come succede fai le cose e tutti ridono, fai le cose e tutti ridono. A me è successo dalla dietologa. Sono salito sulla bilancia, lei si è messa a ridere e ho detto minchia sono un comico! No, 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 no! È certo! Non rideva per questo! Non era questo il motivo. L'arrosto con le patate lo fate? E poi io non potrei essere total positive senza lei, mia moglie. Che bello! Io la amo tantissimo! Sì, lei è la mia dolce metà. Eh. Dolce quarto. Vabbè, l'importante è che ci sia il dolce, ma un po' di... Ma sì, mi se ne frega! E lei mi porta sempre a casa torte, biscotti, brioche, tutta contenta e mi dice Amore, hai visto? Sono senza zuccheri aggiunti e io bene, aggiungiamoli! No, 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 un momento, no! Sennò cosa li ha presi a fare? No, no, sono sani perché non sono stati aggiunti zuccheri dannosi. Tre crepe, per favore. Ma perché mi ordina le cose? E poi è romantica, ma è romantica. Cosa ti ha regalato? A Natale mi ha fatto un attaccapanni francese, d'artigianato, si chiama Ciclette. No, no, ma non è un attaccapanni, è un attrezzo. Ma no, ma funziona! No, ma lo usi, però... Tiene le camicie, tiene i jeans... Oh, devi allenarti! Eh sì, eh! Ti devi allenare! Io vorrei, i profiterol, se mi fai arrivare quattro piatti, grazie! Ma non c'ho la pasticceria, perché... E quindi, che cos'è la total positivity? Sì, alla fine, che cos'è? Io lo so... Cosa? Che la vita è una. Lo so che nel mio caso sembrano due. Ma io mi appartengo e a me ci tengo. Ma che è? Allora... Ti giuro, l'amore è un amore eterno, se non mi amore viene per te. Ma quando ci sorprenderà l'inverno, questo amore sarà già un incendio. La pide c'è che mi leva a svea, con il terreno che mi viene per te. Ah, nessun! Non vuoi più sbagliare, questa è sola, se non ci sarai. Prometti, festa in questa... Prometti, di niente non si tornerà. Max Samaritani! Max, di cosa hai bisogno? grazie io ho risultato ecco qua ecco qua grazie Max Amaritani di Total Positivity sempre mamma mia che bello si ci vuole questa